è presente quando trovi un prodotto fatto apposta per le tue esigenze l'idea motivata la progettazione del girarrosto elettrico è stata di creare un ottimo prodotto da poter utilizzare sempre e ovunque con il tuo forno a legna camino o barbaco il girarrosto è prodotto nel rispetto dei principi e qualità pizza party per consentirti di soddisfare la tua voglia di girarrosto in qualsiasi momento disponibile con due tipologie di forche utilizza un motore a doppia alimentazione a batteria o 220 volts che consente di gestire fino a 5 kg di carne il girarrosto è inoltre realizzato artigianalmente in acciaio inox di alta qualità ed arriva subito pronto per essere utilizzato